Buongiorno ragazzi, anzi buonasera, bentornati al canale come sempre giù di Musco a Vita e c'è anche il Sammy Iniziamo il vlog oggi in un altro setting, siamo tornati in spiaggia, adesso ci stiamo beccando con degli amici e andremo a vedere la semifinale di Coppa del Mondo, abbiamo pensato oggi probabilmente è la serata in cui usciamo quindi abbiamo detto perché no la condividiamo con voi che ce lo state richiedendo un sacco nei commenti e quindi sì abbiamo pensato, se veniamo in spiaggia il setting è bello, guardate che bellezza con questa luce veramente pazzesco, Barceloneta a quest'ora, sono più o meno le 8 adesso e niente, ci prenderemo qualcosa da mangiare, viviamo qualcosina e poi vediamo con gli altri che cosa vogliamo fare se lo vedete il video lasciateci un bel like, let's go! sai scopi c'è ancora gente che gioca a pallavolo un sacco di gente, da spiaggia fa veramente caldo, bello! uno di questi shiringuitos, con la scena del shiringuito tutti che si guardano la partita sui schermi non vedo l'ora, vero Sammy? Vieni! Carica! Victor! tu sarai fai fai grazie mille grazie mille per aver la birra che vuoi? hai preso una Clara? che hai preso? Clara? hai preso una Clara? raga ha preso due Amstel perchè sennò c'erano Heineken e Heineken sa sapore di piscio quindi Amstel è la vita posso una? eh prego vabbè, posso fare una? vabbè, vabbè salute salute non posso salute troppo divertente ho visto sempre che arrivava con quello che mi sembrava non una cervesa ma una Clara ovvero la mezza birra con mezza limonata ed effettivamente è così, ma lui si aspettava un Amstel ma credi no ma cagare è una bomba buona sensazione potete capire chi ha segnato ora ma non corrispondi e questo è giusto mastar ha svegliato portarci nella braccia portarci nella braccia portarci nella braccia che cazzo Regà ha preso a male Che palle Noi ovviamente come ogni buon italiano Spero stiamo vivendo per il Belgio Perché cazzo la Francia Si può vedere la Francia in finale Quando torna Est Italia Dai comunque adesso abbiamo finito Abbiamo venuto un pochino Non abbiamo ancora mangiato Quindi andiamo a un posto di tapas E vi faccio vedere quello che prendo la mangiare Regà non so se lo vedete là in fondo Ma c'è uno yacht enorme C'è uno yacht a quattro piani Bestiale Camminando per le stradine Un posto carino Vittor com'è la sangria? Molto buona Molto buona? E' tutto? Molto buona Sveglia è in grigione L'ospitalo? L'aggione è in grigione L'aggione è in grigione L'aggione? L'aggione è in grigione Salute Chi non batte, non sbatte Abbiamo appena finito la cena E adesso stiamo provando un posto Che quattro anni fa, quando eravamo venuti io e Sammy Rituriamo di mojitos Eravamo venuti quattro anni fa dopo la maturità con Sammy E sotto casa nostra c'era un posto che faceva il mojito a 3,50€ Bellissimo, ma ogni volta ci dimentichiamo dove sta E quindi dobbiamo tornare prima alla casa dei quattro anni fa e poi farci tutto a piedi le stradine Penso che sia là in fondo Credo sia quella Credo sia lì Sì, vediamo con Sammy Speriamo di aver trovato Andiamo trovando Hola Hola Oh, ciao Ciao Sto lasciando al momento wrong Si è calma Oh, grazie molto Ecco il barretto dei mojitos Ve lo consiglio veramente Carriere per la princesa Poi girate un po' in giro Tutto rosso Lasciamo il mojito Guardate, lasciano tutti i mojitos diversi Tutti fatti in casa Ogni singola boccia è di un mojito di gusto diverso Oh, cin cin raga Cin 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 Chi non batte non sbatte Chi non batte non sbatte Sto al secondo Mojito Io sono ben andato Mi sa che stasera Fermi Fermi Eri dal video Stasera devo fare tutto Però me ne andiamo qui lì Eeeh Sto a fare tutto Questo posto comunque E' super carino Si è Molto carino E' il nostro posto da 4 anni direi Quindi è sempre bello ritornarci Grazie E ragazzi stiamo tornando a casa adesso Oggi spero che vi... Spero che vi stancate Ragazzi stiamo tornando a casa in questo momento Spero vi sia piaciuto questo vlog Siamo un po' riusciti in questo momento Direi che Sammy sta a posto Eeeh No Si Non è che ho avuto tanto Io sono un pochino più così Che alla fine ho rivisto degli amici Kilian e Victor sono amici proprio di tanto tempo fa Quindi 4 anni Non li vedo praticamente mai E sono venuti a Barcellona E abbiamo detto ok Facciamo una bella serata E ve la facciamo vedere anche a voi al vlog E Ora torniamo a casa E purtroppo non ci aspetta nessuna cosa di Ci aspetta che cosa? Editare Quindi noi ci pompiamo, usciamo, beviamo, facciamo per poi tornare a casa alle 2 di mattina, alle 2 e mezza, per editare per voi, perché dobbiamo mettere su un video. Comunque ragazzi, io spero vi sia piaciuto il vlog e che vi abbia dato un'idea della vita qua a Barcellona anche di notte, siamo andati a un tapas bar bellissimo e abbiamo visto un altro pochino di baretti. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciateci un bel like, se pensate di venire a Barcellona lasciatelo nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, una cosa importante, sempre, che altro? E niente regà, grazie del supporto, se beccamo domani, se beccamo domani. Grazie a tutti.